E' deceduta a causa di un arresto cardiocircolatorio una donna afghana di 70 anni sbarcata nel porto di Rocella Ionica insieme ad altri 96 migranti nella notte tra lunedì e martedì scorsi. Solo dopo il decesso emerso che la donna era diabetica, a causa delle sue precarie condizioni di salute già dopo lo sbarco, era stata controllata e visitata almeno un paio di volte da un'equipe medica dell'USMAF, struttura sanitaria che fa capo al Ministero della Salute, e non essendo considerata da codice rosso non era stata trasferita in ospedale rimanendo nell'attenso struttura allestita in porto. In mattinata all'improvviso il malore ed il decesso nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario del 118 e della Croce Rossa. In attesa degli ulteriori accertamenti medici e delle indagini che saranno svolte dalla Polizia, la Procura di Locri ha disposto il sequestro della Salma e il trasferimento della stessa all'obitorio dell'ospedale Locrese. Nel porto di Roccella, visto l'alto numero di migranti ancora presenti nell'attenso struttura e i continui sbarchi che da tempo si verificano nello stesso scalo marittimo ionico, permane un grave stato di precarietà sul piano logistico e soprattutto igienico sanitario.